6 kg di cocaina sono stati sequestrati ad un 35enne di Chiara Valle, in provincia di Catanzaro, dalla compagnia della Guardia di Finanza di Lauria nel tardo pomeriggio di giovedì 2 maggio sul tratto lucano della A3 Salerno-Reggio Calabria. L'uomo era diretto proprio in Calabria, a bordo della sua vettura, una Lancia Ypsilon, quando è stato fermato dai finanzieri insospettiti dall'atteggiamento nervoso del conducente. Nel corso della perquisizione dell'auto i militari hanno scoperto un doppio fondo di plastica ricavato nel paraurti posteriore che conteneva la droga all'interno di 5 panetti. Per sviare gli eventuali controlli con unità cinofile, i pacchi di cocaina erano stati avvolti in plastica gommosa e cosparsi di polvere di caffè. Secondo gli uomini della compagnia di Lauria, la coca, in tutto 5,6 kg di polvere di qualità elevata, era destinata al mercato calabrese delle sostanze stupefacenti. Dato il grado di purezza superiore al 90%, i militari ritengono che, dal taglio della stessa, si sarebbero potute ottenere 30.000 dosi che, una volta emesse nel circuito dello spaccio, avrebbero fruttato circa un milione e mezzo di euro. Il Corriere Calabrese è stato arrestato in flagranza per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Lago Negro, è stato condotto nel carcere di Sala Consilina. Anche l'auto utilizzata per il trasporto della droga è stata posta sotto sequestro, mentre una perquisizione dall'esito negativo è stata effettuata nell'abitazione calabrese del fermato. Sono in corso, fanno infine sapere le fiamme gialle lauriote, ulteriori indagini per individuare altri soggetti eventualmente coinvolti nell'attività illecita.